abbiamo la velocità dei bradipo in questo momento è perché sei tu che fa l'andatura anche a Franco fa l'andatura dai Franco dai su avanti muovete guarda che hai fatto due metri e si è fermato una tecnica tutta particolare abbiamo uno amico Franco spassate un po' perché sennò te sei passato che figo iscriviti al canale qui l'ondolose 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 senza offesa i caprioli si eh guarda questo guarda ragazzi super allenato da ormai il val di funes nei suoi pensieri inizio qui l'ondolose Il mondo l'osè, il mondo l'osè, su un'angishe illa. Il mondo l'osè, il mondo l'osè, il mondo l'osè, su un'angishe illa. Il mondo l'osè, il mondo l'osè.